buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv leggeremo insieme i giornali resto del carlino corriere adriatico sulle pagine locali e cominciamo con l'almanacco del giorno e poi le previsioni del tempo vediamo subito chi si festeggia oggi ebbene devo dire che è una grande santa una santa dei nostri giorni una santa contemporanea che molti di noi hanno conosciuto se non di persona attraverso i mass media attraverso la televisione e santa teresa di calcutta la vediamo qui in questa fotografia sorridente con il suo volto scavato provato da tante tante diciamo così privazioni santa teresa di calcutta al secolo agnese gonxai boi xiu nata scofie nella macedonia del nord povera con i poveri ha condiviso in tutto per tutto la sua vita con i diseredati e sofferenti operò in calcutta ma poi anche in albania e in altre nazioni dove il suo operato la rese grande per tutti coloro che credevano in diverse religioni non solo per quanto riguarda la fede cristiana ma anche per quella musulmana per quella hindu insomma per diverse credenze che ci sono nel mondo fondò le missionarie della carità che si sparsero poi in tutte le nazioni e ricevette il premio nobel per la pace nel 1979 questa è santa teresa di calcutta detta in pochissime parole povere parole anche queste ma per una santa che fu veramente grande ciò detto passiamo alle previsioni del tempo ecco la grafica nubi sparse nell'entroterra penninico ben più assolato invece su pianure e coste il tempo temperature massime non oltre i 28 gradi le minime si sono attestate a 20 gradi questa notte nelle prime ore dell'alba i venti sulle coste da nord est così come nell'interno il mare è mosso spira del vento piuttosto forte e beh questo è il tempo di oggi un tempo che prolunga l'estate e che con una temperatura più gradevole del mese di agosto facilita chi vuole godersi questi ultimi giorni di vacanza poi il 13 di settembre cominceranno le scuole ma per quanto riguarda invece gli asili nido le scuole cominciano prima ne parleremo anche nei prossimi giorni vediamo ora l'articolo di apertura del Corriere Adriatico sulla pagina di Fano si parla di una questione che è stata un po' messa in disparte da parte dell'amministrazione comunale ma non da coloro che vogliono la soluzione di questo problema si tratta della variante di Centinarola una variante che avrebbe permesso se approvata in realtà è stata respinta dal voto del Consiglio Comunale se fosse stata approvata avrebbe consentito l'ampliamento della scuola Raffaello Sanzio di Centinarola tra via Pastrengo e via Brigata Messina una scuola che al momento è sottodimensionata alle esigenze del quartiere tanto che molti ragazzi sono costretti ad andare a scuola al Poderino oppure in altri quartieri della città la scuola sarebbe stata ampliata se una ditta avesse avuto il permesso dall'amministrazione comunale di costruire nei pressi un supermercato bonificando anche un'area artigianale che al momento risulta degradata questo non è avvenuto ma i residenti non si arrendono e chiedono al Sindaco per la seconda volta hanno già spedito una lettera aperta ora l'hanno fatto ugualmente per inserire nel piano regolatore questa previsione sperando di recuperarla non sappiamo se poi la Giunta perseguirà questo obiettivo oppure questa esigenza dei centinarolesi una parte almeno di loro resterà in evasa vogliamo la scuola nuova ripensate al supermercato nuova lettera aperta dei residenti di Centinarola al Comune lo scambio è ottimale perché poi anche il supermercato secondo appunto una parte di coloro che abitano a Centinarola costituisce un nuovo servizio per tutto il quartiere nella zona industriale cresce la giungla e questa è una denuncia che fa la segretaria di Fratelli d'Italia Loretta Manocchi per quanto riguarda la cura e la manutenzione di certe zone del territorio fanese si tratta di un florileggio di segnalazioni dice il Corriere che Fratelli d'Italia ha messo insieme sulla condizione delle strade cittadine è proprio un book fotografico che ha posto in evidenza soprattutto se insiste su via Paolo Borsellino nella zona industriale di Bellocchi che è stata trasformata in una vera e propria giungla il ponticello di legno serrato da una grata di ferro che ne indica l'inagibilità è solo un caso rispetto all'incuria di tutta la zona denunciati anche l'abbandono in cui versano spazi comuni giardini panchine come quelle presenti a Santoso dove sedersi è impossibile perché mancano addirittura le assi ci sono poi anche le documentazioni fotografiche che attestano quanto ha detto la Manocchi la piscina di Nisalvalai per i soggetti più deboli questa è una proposta di Fano Ribella una lista civica ormai un'associazione politica di sinistra che evidenzia come la Dini Salvalai in relazione all'inaugurazione del nuovo impianto natatorio che ormai dovrebbe così dovrebbe avvenire tra pochi tra pochi giorni dovrebbe essere riservata per i soggetti disabili dice l'articolo mettere la Dini Salvalai al servizio dei soggetti più deboli tutelandone così anche l'importanza per la socialità del quartiere che poi la Dini Salvalai abbia bisogno di continui adeguamenti lo rilevano gli investimenti per decine di migliaia di euro che la Fano Fortuna la società di nuoto fanese ha compiuto in questi anni si vada alla salvaguardia della funzione della piscina di Sant'Orso quindi una volta che si metta in funzione l'impianto dell'aeroporto quello realizzato dalla fondazione Carifano non si chiuda definitivamente la piscina di Sant'Orso è appunto l'invito di Fano Ribella a 18 anni i ragazzi hanno un lavoro ma la vera emergenza abitativa è una presa di posizione di Lara Riccianti Lara Riccianti è stata una parlamentare che ora cura l'organizzazione di Casa Lucia una istituzione che appunto si occupa di minori molti dei minori stranieri non accompagnati ha detto appunto la Riccianti quando compiano 18 anni hanno un lavoro ma uscendo dalla comunità in cui sono ospiti non sanno dove andare perché il loro stipendio non permette loro di pagare l'affitto di un appartamento e si trovano così disadattati questo è un problema da risolvere perché se questi ragazzi non riescono ad integrarsi nella nostra socialità ebbene sono motivati magari a raggiungere il limite della devianza e questo appunto è un appello molto molto sentito da parte della Riccianti ed ora vediamo un articolo che riguarda un po' così un caso curioso ce ne sono spesso nei giornali anche se in realtà c'è un profondo disagio all'interno di esso in mutande entra al liceo e ruba una bici è stato preso si tratta di un un giovane che è residente a Iesi dopo un turno lavorativo a Dancona è arrivato a Fano con il treno era ubriaco era ubriaco si trovava in mutande in cannottiera ha girato un po' per la città poi è entrato nell'iceo a Polloni e ha rotto i vetri di una finestra il rumore ha alertato qualche passante che ha chiamato subito i caraminieri i militari sono arrivati sul posto e l'hanno trovato mentre girovagava nel cortile dell'istituto con una bicicletta un mezzo preso per tentare il rientro addirittura a Iesi pensate Iesi non è lì vicino non è proprio a due passi comunque era completamente fuori di testa forse per l'alcol che aveva bevuto il giovane scippatore tenuto d'occhio dalla polizia il retroscena del furto della catenina d'oro un altro articolo che riguarda la cronaca di spalla sulla seconda pagina del Corriere Adriatico era già tenuto d'occhio dalla polizia il giovane originario dell'Albania 18 anni appena compiuti che si trova in carcere a Villa Fastigi di Pesaro con l'accusa di aver strappato una collana d'oro dal collo di un pensionato fanese perile personale del commissariato locale che ha indagato sull'episodio il ragazzo è una figura di spicco in un gruppo di giovani sotto stretta osservazione e questo ci dà l'opportunità di passare all'articolo di apertura del resto del Carlino eccolo qua arrestato arrestato il capetto della baby gang l'ultimo misfatto l'ottantenne rapinato in manette un diciottenne si ritiene che possa essere responsabile di molti episodi criminali avvenuti questa estate anche quello dell'aggressione al Lido per una assurda sigaretta che sarebbe stata gettata a terra e poi colcalpestata dalla vittima di qui appunto l'aggressione ai danni di un cammariere diciottenne per accapparrarsi 25 euro è quindi un piccolo criminale non solo d'età che aveva scelto di vivere di espedienti dormendo all'aperto fino a venerdì sera quando è finito a Villa Fastigi perché al termine di una lunga indagine che è stata compiuta dai carabinieri è stato appunto pizzicato ed è stato arrestato e qua abbiamo anche l'articolo che riguarda l'ubriaco Jesino in mutande pedalava di notte nel parco del liceo ebbene torniamo poi al resto del calino proseguiamo la rassegna stampa del Corriere Adriatico andiamo ad Acqualagna turismo e sport outdoor il furlo accoglie il festival si tratta del festival del turismo e dello sport outdoor presso il parco del museo dei riciclosauri al furlo è un fuori festival nelle attività del partner del progetto sappiamo che al furlo c'è un bellissimo museo dei riciclosauri ovvero di questi mastodontici animali preistorici realizzati con materiali di scarto un diciamo così un centro di attrazione che meriterebbe di essere visitato da tutti coloro che entrano in questo bellissimo parco di natura ambientale che è appunto il furlo la gola del furlo vediamo ancora nella Val Cesano a San Costanzo purtroppo sono ancora trasfollati dopo il rogo una famiglia che ha visto la sua casa distrutta dal fuoco non può rientrare e questa questa situazione di precarietà lei lavora a Pesaro il marito lavora in Ancona o viceversa hanno un figlioletto ancora il comune non riesce a risolvere questa situazione perché non dispone di immobili di immediata disponibilità insomma una famiglia che andrebbe aiutata e qui c'è un grido d'appello non è il primo che appare sulla stampa da parte di questa famiglia che ogni giorno che passa vive sulla propria pelle il disagio di trovarsi improvvisamente senza casa e quindi con una situazione veramente di disagio veramente grave vediamo ancora la pagina di Senigallia ne parla parla in questo caso il sottosegretario Sgarbi per Villa Torlonia è un monumento Villa Torlonia che dovrebbe essere abbattuto ma cancellare il segno di tempi dopo ci si pente ed è un veramente delitto fu residenza estiva della famiglia Bonaparte ospitò in particolare Luciano fratello di Napoleone con la propria consorte le ultime ad abitarla sono state le suore della carità Villa Torlonia è nei programmi una villa che deve essere abbattuto per lasciare posto ad un'altra costruzione ma tra coloro che obiettano che lanciano un'invocazione perché questo non accada c'è anche Vittorio Sgarbi Carambo alla sciocca la moto nel campo Centauri nell'ambulanza a Torrette e ancora l'Arciviese che è una strada pericolosa che teatro di un nuovo incidente questo è successo a Pianello di Ostra l'ipotesi l'auto ha invaso la corsia per schivarne un'altra e purtroppo c'è stato un impatto con la motocicletta vediamo anche qualche notizia che riguarda Pesaro il articolo di apertura riguarda il turismo siamo agli ultimi fuochi di una stagione altalenante ci sono stati degli alti e dei bassi e qui ci sono delle dichiarazioni degli operatori turistici e anche dei responsabili di categoria come Amerigo Varotti lo vediamo qua nella foto direttore provinciale della Confcommercio Sabina Cardinali della CNA Balneari quindi tutela i diritti dei concessionari di spiaggia Paolo Costantini APA Hotel Mauro Mandolini Confartigianato Balneari ancora concessionari di spiaggia e Alessandro Licurgo della Confesercenti ultimi fuoco per giocarsi la stagione poi cambiamo tutto l'inizio della scuola è uno spartiacque perché costituisce un po' un impedimento alle famiglie ad andare in vacanza dato che i figli poi devono andare a scuola dopo diversi alberghi quindi chiuderanno dopo il 13 di settembre operatori concordi sulla necessità di diversificare promozione e proposte occorre rendere la stagione più lunga destagionalizzare questo è il termine che viene usato per cercare di attrarre turisti non solo a luglio ed agosto ma anche nei mesi preautunnali oppure anche autunnali se il tempo è buono vediamo gli altri articoli dopo Rossini avete avuto Forlani lui il marchigiano più importante è venuto a Pesaro Casini per così celebrare per ricordare diciamo così Arnaldo Forlani svela un retroscena i 20 voti mancanti come Presidente della Repubblica non volle riconoscere il movimento sociale di Fini ecco perché mancarono questi voti fu lì per diventare per diventare Presidente della Repubblica c'è anche una presa di posizione di Girelli la storia gli renderà il giusto merito questo è quanto è stato ricordato per Forlani ed ora parliamo dei contributi per l'emergenza casa per l'emergenza abitativa più di 450 domande sono giunte al Comune di Pesaro per avere un sussidio e pagare gli affitti ora il bando è chiuso l'assessore ai servizi sociali Luca Pandolfi dice che ci sono a disposizione 250 mila euro del fondo anticrisi e poi da fondopagina abbiamo l'addio a Barbanti il funerale il funerale che riunisce gli ultimi tre sindaci nella chiesa di Cristo Re sono stati presenti con il sindaco Ricci anche Ceriscioli e Giovannelli i sindaci che l'hanno preceduto ragazzo esce di casa all'alba e scompare la famiglia aiutateci a trovare Angelo Angelo qui lo vediamo in una fotografia è il 19enne di cui non si hanno più notizie da domenica viene ricercato dai carabinieri una telecamera del Comune di Montellabate lo ha ripreso domenica alle 6 e 30 dopo di che non si è avuta più notizie quindi ci sono ampie ricerche per quanto riguarda la scomparsa di questo ragazzo passiamo ora al resto del calino abbiamo visto le prime notizie di cronaca sulla pagina di Fano passiamo alla seconda pagina dove vediamo che dopo l'ennesimo incidente che è accaduto in via brigata Messina c'è Gianluca Ilari che è il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale che evidenzia come la pericolosità della strada di via brigata Messina in modo particolare sul ponte e in modo particolare la pericolosità della pista ciclabile che attraversa l'autostrada a 14 debba essere rimossa barricate a Centinarola qui ci scappa il morto dopo l'ennesimo incidente cresce l'esasperazione le auto sfrecciano nessuno fa nulla dice Ilari ciclabile in stato pietoso sono state veramente ormai scardinate le lastre che fanno la pavimentazione della pista ciclabile che appunto sorpassa il ponte dell'autostrada e qui c'è veramente il rischio di cadere e quindi di farsi veramente male e poi vediamo la discarica abusiva che si è notata a Marotta la minoranza scrive al prefetto a due mesi dall'altolà dei forestali nell'area vicino al casello della 14 tutto è uguale anzi peggio è stata denunciata la presenza di questi rifiuti nei pressi del casello dell'autostrada ma da due mesi nulla è stato fatto nessun rifiuto è stato rimosso ecco perché c'è questa denuncia da parte del capogruppo di minoranza consigliare Anteo Bonaccorsi che ha investito della questione il prefetto insomma bisogna ricorrere poi agli organi superiori quando quelli diretti cioè il comune oppure le aziende non rispondono vediamo ancora sulla pagina di Urbino ancora si parla di Aquiloni veramente ne appaiono uno più bello dell'alto nelle fotografie che riportano questa festa Aquilone primi bilanci un'edizione super il trionfo della contrada di Hong Kong è una festa memorabile pieno neanche per le navette gratuite che facevano la spolla tra Cento e le Cesane dove si è svolto questo volteggiare multicolore nel cielo azzurro di Urbino tutti al lavoro per il prossimo anno cresce l'entusiasmo tra i contradaioli ebbene questa festa poi ha acceso anche un po' la rivalità come avviene poi nel gioco dell'Aita tra appunto quartiere e quartiere e questo quando viene fatto nel limite delle regole costituisce invece un bel coinvolgimento Cavallino rimpatriata di calcio e passione ecco il titolo una cinquantina di persone si sono riunite per festeggiare i 40 anni dalla fondazione la società celebre degli stadi di seconda e terza categoria questo un po' una festa dello sport ma una festa del sentimento dello sport e poi passiamo a Fossombrone aggressioni in carcere gli agenti protestano è accaduto a Fossombrone l'autore è un detenuto del braccio di massima sicurezza e il sindacato è sul piede di guerra se è difficile la situazione dei carcerati quegli ospiti nelle strutture di massima sicurezza che sono sottoposto a un regime piuttosto duro la vita è difficile anche per gli agenti che devono così garantire la sicurezza venerdì scorso un detenuto del braccio di massima sicurezza ha aggredito un agente di polizia penitenziaria l'uomo ha dovuto essere curato al pronto soccorso di Fano e sul grave episodio ora interviene il sindacato di polizia penitenziaria che ha diffuso un comunicato a firma del segretario Roberto Mattarocchia nel quale esprime solidarietà al collega aggredito e al personale della casa di reclusione beh occorrerebbe migliorerare sia la situazione dei detenuti e quella delle guardie carcerarie vediamo ora quello che accade sulla pagina di Pesaro dove si parla di Tavuglia e di Valentino Rossi ovviamente il binomio è inscindibile il paese del Doctor al centro del mondo attese 7.000 persone al Tavuglia vale ebbene è una specie di festival un festival che viene così organizzato nell'immagine di Valentino Rossi che ha appunto una rinomanza in tutto il mondo quanto ha la rinomanza di questo sportivo pesarese Forlani l'omaggio di Casini ha vissuto un incidente della storia così il senatore che ne fu il braccio destro ha ricordato l'esponente scudo scrociato il senatore Casini sullo sfondo Tangentopoli di cui poi Forlani è stato vittima vediamo ancora altri articoli del resto del Carlino vediamo un articolo di cronaca che tira in ballo purtroppo un cane l'attacco del lupo il piccolo Jack sbranato il veterinario l'ha salvato è successo a Candelara Jack Russell ferito gravemente dall'animale selvatico polmone lesionato costole lotte ma dopo l'operazione se la calvera e vedete qui questo piccolo animale un cane si chiama Jack Russell un nome veramente altissonante per un animale così il fatto è venuto nella campagna di Candelara il veterinario è intervenuto subito gli ha fatto un intervento e lo ha rimesso in piedi per fortuna sua e per fortuna anche del padrone dobbiamo dire che ovviamente si è molto rammaricato per quanto avvenuto addio a Serenella Albonetti imprenditrice illuminata si è spenta ieri a 62 anni era titolare di AS tecnologie di sicurezza per sistemi di allarme di qualità è stata vinta da una malattia positiva fino all'ultimo oggi rosario e domani il funerale alle ore 16 nella chiesa di Santa Veneranda siamo in conclusione terminiamo qui la lettura dei giornali come al solito vi do appuntamento a questa sera per le notizie del giorno 20 e 30 occhio alla notizia il TG di Fano TV e domani alla conferenza stampa sempre alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci a rispettare a rispettare a rispettare la notizia